Quante volte vi è capitato di comprare online e di accorgervi solo dopo aver acquistato che avreste potuto spendere molto meno? Ma come fare per non cadere in errore? Va bene, ve lo spiego tra poco qui su Tech Princess. La rete è bella perché offre tantissime occasioni per risparmiare del preziosissimo denaro. Uno dei tanti servizi online che ci permette di fare ciò si chiama PagoMeno. Sostanzialmente si tratta di un avanzatissimo comparatore di prezzi quasi scientifico consultabile sia da pc che da smartphone. Sul sito potrete confrontare oltre 8 milioni di prodotti suddivisi in 7 macro categorie attraverso più di 100 filtri per ogni singola categoria merceologica. Utilizzarlo è facilissimo, basta digitare nel campo di ricerca ciò che si desidera acquistare. Et voilà, il gioco è fatto. Facciamo un esempio concreto. L'estate si avvicina e le grigliate con gli amici si fanno sempre più frequenti. È tempo quindi di cercare un nuovo barbecue. Dalla home page di PagoMeno cliccate su case e giardino, poi barbecue e a quel punto non avrete che l'imbarazzo della scelta. Una volta cliccato sul prodotto che avete addocchiato non vi resta che cliccarci sopra. Vi si aprirà una pagina tempestata di dati, quasi scientifica. Avrete la possibilità di capire quale sia lo store online che lo vende al minor prezzo oppure interrogare delle interessanti statistiche come ad esempio l'andamento del prezzo durante il corso dei mesi. Ovviamente potrete anche chiedere a PagoMeno di inviarvi un avviso quando il prodotto scende di prezzo oppure stabilire voi una soglia minima. Direi che anche per oggi è tutto, voi però ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per tanti altri consigli tecnologici. Ciao!